Nel modello aliocentrico dell'universo, il nostro Sole è al centro di un sistema solare dove in ordine ruotano i pianeti di Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Con questa disposizione, come potete vedere nell'immagine, visto che Mercurio e Venere sono situati più vicini al Sole rispetto alla Terra, un osservatore sulla Terra dovrebbe sempre essere rivolto verso il Sole per poterli vedere. Se un osservatore sulla Terra si trovasse a metà nella parte oscura di fronte al Sole, sarebbe ovviamente impossibilitato di poter vedere Mercurio o Venere perché l'intera massa del globo terrestre su cui credono di trovarsi bloccherebbe la loro capacità di vedere Mercurio, Venere e il Sole. Ciò significa che nel modello aliocentrico l'unico momento in cui un osservatore sulla Terra dovrebbe essere in grado di vedere Mercurio e Venere è durante il giorno quando è visibile anche il Sole. Per un osservatore sul globo della Terra riuscire a vedere Mercurio e o Venere durante la notte è semplicemente impossibile. Come potete vedere nei video che seguono, e potete filmarli voi stessi a seconda di dove e quando state riprendendo, sia Mercurio che Venere si possono vedere di notte. Per alcune ore prima dell'alba e alcune ore dopo il tramonto si possono vedere questi luminari brillare luminosi con il Sole nascosto. Ancora una volta, se questi luminari orbitano veramente all'interno del sistema solare aliocentrico, le uniche volte in cui potrebbero essere visibili da un osservatore sulla Terra sarebbe quando anche il Sole è visibile. Gli oppositori affermeranno che vedere questi luminari prima dell'alba o dopo il tramonto è dovuto ad un angolo perfetto in cui il Sole è completamente bloccato dalla loro palla Terra e i pianeti interni sono in qualche modo ancora visibili. Quando filmiamo Venere due ore prima dell'alba o due ore dopo il tramonto, tuttavia, la realtà è che il globo Terra è a 210 gradi rispetto al Sole, con centinaia di chilometri di curvatura della Terra che blocca la loro vista perché si trovano dall'altra parte senza nessuna possibilità di vederli. Questa è solo una delle centinaia di prove che non stiamo vivendo su una sfera spaziale inclinata, traballante, che schizza all'interno di un sistema solare fatto in CGI. Quando siete pronti per curare finalmente la vostra vertigine cronica e fermare il vostro giro vertiginoso per la galassia, sedetevi con mente aperta e col cuore umile per guardare o leggere 200 prove che la Terra non è una palla rotante.